Io mi chiamo Gualtiero Cecchin. Sicuramente realizzato con materiali plastici riciclati. Per capirne di più su questo film siamo con il regista Pietro Parolin. Allora, diciamo subito che questa è un'opera prima che gioca un po' in casa, no? Sì, gioca molto in casa. Diciamo che gioca tutto in casa per via almeno di quello che è l'ambientazione. È un film che è stato realizzato grazie a un bando regionale del 2012 e prevedeva di essere girato in Veneto e così è stato. Io ho scelto Treviso e le zone limitrofe perché ci sono molto legato per varie questioni. Mi sembrava proprio la città ideale per poter raccontare uno spaccato di società attuale veneta, com'era e com'è. Tu nasci diciamo come sceneggiatore. Hai lavorato per questa serie della Rai che è un successo molto molto importante di Rai 3, se non sbaglio, la squadra e poi da un poliziesco sei passato adesso a una commedia. Non solo questo cambio ma anche da sceneggiatore e anche regista. Sei anche lo sceneggiatore di questo film? Sono anche lo sceneggiatore in collaborazione con due carissimi amici che sono Mario Cristiani e Andrea Fazzini che mi hanno aiutato nella stesura finale della sceneggiatura. Io ho amato tantissimo la squadra perché mi ha proprio formato come scrittore e all'epoca avevamo anche dei consulenti fantastici. Io ricordo Roberto Saviano che veniva a formarci proprio per scrivere poi le nostre storie. Questo passaggio per esplorare qualcos'altro? Sì, nel senso che c'era poco spazio per ridere alla squadra, nel senso che è un poliziesco molto drammatico. Io ho sempre pensato, caspita ma a me piacciono le commedie, mi piace far ridere e penso che sia un bel modo anche per raggiungere un pubblico molto molto vasto. È un po', no? È un po' come dire, una pugnalata alle spalle la commedia perché ti fa ridere ma in qualche modo vuole anche farti vedere qualcosa in maniera più profonda. Grazie allora, grazie a Pietro Parolina. Andiamo al cinema a vedere Leoni, grazie. Non avrai i miei soldi qualchiero? Quando mi consegni? Colpifero che consegno, Gettini? Prima paghi tu. Siamo in compagnia di Piera degli Esposti, Mara Cecchin. Lei è un personaggio che regala tantissima simpatia ma lascia anche un senso di un'inguaribile infelicità. È così? Beh, ma io penso che le persone di potere non siano sempre felici, anche se loro ritengono che il potere dovrebbe essere quello che fa la felicità. Dunque, Mara è una donna che pur da letto, cosa che ha scelto, benché non sia malata, e dirige parecchio, dirige tutte le cose del Vescovado, eccetera, dirige la villa, la villa e lo stato della villa. Cioè, praticamente, dopo il dispiacere che avrà avuto, insomma, dalla morte di suo marito, lei ha deciso così di stare a letto e là, e là di essere una specie di, così, di industrialessa. Lei è una persona che non esce, non è curiosa, è solo dedita a dare ordini. È un personaggio che può ricordarne alcuni dell'attualità. Molto. Sì, sì, ogni tanto faccio delle persone, delle donne miti, ogni tanto invece faccio delle donne molto ciniche, del resto nell'ora di religione, del resto quella zia cinica, del resto in cleglia, in televisione, tutti pazzi per amore, e ogni tanto faccio quelle più buone. Questa invece è un'altra cattiva. Tu non riuscirai mai a rovinare il mio figlio. Complimenti ancora, bellissimo personaggio. Grazie, grazie. Che sappiamo cosa. Sono un uomo! E te copo! Grazie, te copo! Siamo in compagnia di Stefano Pesce, l'antagonista del nostro protagonista. Ti succedono un po' di cose dentro questo film? È antagonista, è un modo così di descrivere questo personaggio, è un poveretto questo qui, sostanzialmente cerco di rendere simpatico un uomo senza alcuna qualità, non sa amare, non sa fare il suo lavoro, disprezza quello che ha, vorrebbe quel che non ha, quindi è veramente un insieme di cose negative. Per fare ingoiare, digerire al pubblico un personaggio del genere, di cui l'Italia tutta è popolatissima, ho tentato di farne un personaggio molto divertente, quindi volutamente eccessivo, perché non sia reale. Non possiamo dire nulla, però c'è un epilogo finale molto interessante, l'evoluzione non si può raccontare, non possiamo svelare tutto il film. Non si può raccontare, andatelo a vedere, c'è qualcosa, c'è una sorpresina. Grazie Stefano Pesce, grazie. Adesso non sono uno stronzo, e poi hai avuto il divorzio, gli alimenti, hai avuto anche Martino. La vita è una gabbia di leoni, io sono il miglior domatore sulla piazza, è così, Gualtiero è così o in realtà è solo un cialtrone in giacca e cravatta? A Gualtiero piace dire di essere il miglior domatore, in realtà se non sta attento si fa domare da leoni ben più agguerriti di lui, però attraverso queste vicende legate alla storia di Cecchini e della sua famiglia, quantomeno riesce a crescere un po' e scrollarsi di dosso questa inconsapevolezza, questa cialtroneria infantile che si porta dietro e quindi magari a fine film lo troviamo un po' più umile e meno domatore di quanto proclami. Sei al cinema in questo momento anche con un altro film, una produzione che noi abbiamo seguito la settimana scorsa, siamo stati sulla Luna, diretto da Paolo Genovese, dove interpreti questo aspirante prete autistico, Pino Pino, che è molto simpatico, e siete in Puglia, quindi nel sud dell'Italia. Adesso qui invece siamo in Veneto, reciti con questa inflessione veneta. C'è un'esigenza da parte tua di raccontare anche il nostro paese? Ma io accetto o meno semplicemente le proposte che mi vengono fatte, salvo poi appunto propormele da solo, si fa anche così, però dei film, delle sceneggiature che mi arrivano io guardo non tanto a questioni etiche o didattiche che siano o all'intenzione di voler raccontare qualcosa di preciso del nostro paese. Guardo semplicemente, e mi sembra già tanto, che una storia sia credibile, che i personaggi siano autentici e che quindi attraverso questa storia si possa raccontare un pezzo di verità. Quindi certo, poi di conseguenza si racconta anche aspetti del nostro paese. Poi ci sono storie più legate magari alla realtà, come questa di Leoni, storie che invece sono più fiabesche, come quella di Sei mai stata sulla Luna, partendo appunto da soggetti che si muovono in un contesto realistico. E quindi ecco, a me piace che prima di tutto funzioni tutto il contesto, tutto l'impianto filmico e poi ovviamente anche il mio personaggio deve essere stimolante da qualche punto di vista, quindi Pino lo era perché appunto un soggetto leggermente ritardato che però appunto faceva tenerezza e anche ridere in certi contesti e credo venga fuori bene. Quest'altro invece era un personaggio appunto cialtrone che si muove per tutto il film con con disinvoltura e quindi intravedeva la possibilità di inventare delle cose all'interno dell'interpretazione, insomma, della recitazione. Qualtiero lo possiamo candidare, chiudiamo così, lo possiamo candidare a delle prossime elezioni? È perfetto come personaggio. Non ha ancora 50 anni, però potrebbe essere... No, magari non alla Presidenza. Perché no, adesso in questi giorni il tormentone è quello della Presidenza. però probabilmente sì, probabilmente verrebbe anche eletto perché adesso insomma vengono eletti soggetti che magari hanno soltanto una buona parlantina ma nessuna sostanza sotto, nessuno spessore e ne abbiamo visti tanti. Speriamo che magari l'elettorato dopo queste botte che ha preso come check-in nel film, insomma faccia tesoro degli errori commessi o della disinvoltura con cui ha votato finora personaggi tutt'altro che limpidi e magari si possa crescere, insomma possa maturare anche dal punto di vista civico perché poi insomma è fondamentale essere informati, non si può dare sempre la colpa ai politici di tutto. Certo che ce l'hanno, ma sono i nostri rappresentanti. Quindi andiamo al cinema a vedere i Leoni. Perché chiudiamo così? Perché è una storia divertente, ben girata, ben recitata e quindi insomma penso ci siano tutti gli elementi per passare un'ora e mezza, non so quanto duri di preciso, se un'ora e mezza in modo spensierato ma non superficiale. Grazie mille, grazie a Neri Marco Rai. La vita è una gabbia di Leoni e io sono il miglior domatore sulla piazza. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.